Le patatine di male fuori Sembrano le patatine che mangi al bar quando fai aperitivo Che quindi sono patatine di due giorni fa Il sapore, diciamo, ricorda le patatine Cioè stanno quasi di pane Non lo so, di toast Ma tu dici, ma perché dovrebbe sapere di toast? Cioè, sembrano un po' cartone Tra l'altro ci sono anche dei braccialetti di mare fuori Ma forse sarà una storia per un altro giorno